Salute! Il mito delle proteine. Chiamiamo questa cosa il mito delle proteine. Allora, beh, il problema delle proteine non è assumerne troppo poche, è che in realtà se ne assumono troppe. In una dieta normale, in una dieta, per esempio, in una dieta italiana, in una dieta occidentale, l'assunzione di proteine è circa due o tre volte quello che sarebbe sufficiente. Perché la dose di proteine necessaria al nostro organismo è di 0,8-1 grammo per chilo di peso. Ideale, naturalmente, nel senso che l'obeso deve comunque fare riferimento al suo peso ideale, non è che possa raddoppiare l'assunzione di proteine perché pesa il doppio. Le proteine ci sono in tutti i cibi vegetali, cioè il mondo, il regno vegetale contiene tutte le proteine necessarie. Le proteine, in realtà, sono formate da delle molecole che sono gli aminoacidi. Gli aminoacidi sono in tutto 20, di questi ce ne sono 8 che sono essenziali. Vuol dire che l'organismo non è in grado di produrli da solo, mentre gli altri 12 li produce da solo, anche se non fossero paradossalmente presenti nel cibo. Questi 8 aminoacidi essenziali devono essere assunti con la dieta. Quello che succede e che è oggetto di terrorismo è che i cereali non contengono adeguate, le contengono, contengono la lisina che è uno degli aminoacidi essenziali, ma non ne contengono adeguate quantità. Mentre i legumi non contengono adeguate quantità di metionina. Basta 2 su 8. Tutti gli altri aminoacidi essenziali sono presenti in tutti i cibi vegetali. Quello che succede normalmente però è che noi non mangiamo un unico cibo. Questo vale sia per i carnivori che per i vegetariani. Allora, il fatto di assumere proteine da diversi cibi, quindi ad esempio classico di tutte le tradizioni, di tutte le culture, i cereali abbinati ai legumi, permette di ricavare gli aminoacidi che non ci sono nei cereali dai legumi e l'aminoacido che non c'è nei cereali dai legumi e l'aminoacido che non c'è nei legumi dai cereali. Una volta che queste proteine con poca lisina o con poca metionina vengono digerite, vengono demolite in aminoacidi, si forma un deposito di questi aminoacidi dove ci saranno tutti gli aminoacidi nelle quantità necessarie e a quel punto l'organismo riforma, risintetizza, ricostruisce le proteine che gli servono. Non è che la proteina della carne va a finire direttamente nel muscolo. La proteina della carne deve venire digerita, trasformata in aminoacidi e poi l'organismo, se la persona utilizza la muscolatura, quindi fa attività fisica, utilizzerà quegli aminoacidi per produrre massa muscolare. Sbagliatissimo invece pensare che le proteine possano essere utilizzate per dare energia, come succede nelle diete dimagranti iperproteiche. Quando la quantità di proteine nella dieta è eccessiva, questo porta via fonti energetiche eccellenti come sono quelle dei carboidrati e poi dei grassi. E ricavare l'energia dalle proteine fa sì che si producano delle scorie dannose per l'organismo e molto spesso queste scorie poi sono a loro volta fonte di intossicazione che fa sì che la persona poi abbia anche meno fame. Quindi il meccanismo con cui in realtà le diete iperproteiche funzionano è perché da una parte fanno urinare tantissimo, perché le proteine sono diuretiche e si portano via il calcio per essere eliminate con le urine e quindi sono diuretiche e impoveriscono l'osso di calcio. Dall'altra parte che fanno venire una chetosi, cioè uno stato di acidosi che di per sé è una situazione in cui l'organismo non sta bene, compare anoressia, compare poca voglia di mangiare e in questo modo la persona limita l'assunzione di cibo. Ma è una situazione che nessuno riesce a sostenere nel tempo e questo fa sì che poi la persona ritorna alle abitudini precedenti avendo magari perso massa muscolare e quindi avendo bisogno di meno calorie di prima. Quindi tornando alle abitudini di prima di solito il peso aumenta, torna a come era prima e ci sono anche degli interessi in più.